Otro, com'è mai questa scelta? Innanzitutto un po' di nostalgia della Spagna, perché abbiamo vissuto gli ultimi tre anni prima di tornare qui in Spagna, precisamente a Ibiza. Quindi un po' di nostalgia di quella terra, bellissima, e poi perché comunque la Spagna dà tanto a livello enogastronomico, quindi molto vicina all'Italia ma con dei sapori molto decisi, diciamo che è una cucina molto ma molto buona, quindi ecco perché Otro. E cos'è esattamente Otro? Otro è un tapas bar, quindi è il posto dove si può stuzzicare, dove si può mangiare delle proposte nuove, delle tapas appunto, bere delle birre spagnole, dei vini spagnoli, ma tanto territorio anche, quindi è un mix tra il territorio e la Spagna. Nel centro storico sta diventando ormai una vostra esclusiva, possiamo dire, avete Anima e adesso avete aperto appunto Otro? Beh, più che un'esclusiva diciamo che sono due progetti estremamente diversi, Anima si rivolge ad un pubblico diverso rispetto a quello che ci auguriamo per Otro, perché Otro è un posto conviviale, è un posto dove la gente passa a bere una birra per caso, dopo il lavoro, quindi Anima è una cosa un po' più formale, però sì dai, siamo nel centro storico, siamo presenti insieme a tanti altri, quindi ci fa piacere perché fare network è importantissimo. È bello quando due giovani imprenditori come voi si danno da fare per la propria città e non vanno via. Sì, stiamo facendo di tutto per restare qui a casa, facciamo di tutto per creare qualcosa per la città, per i giovani, abbiamo un po' di esperienza fatta all'estero e quindi stiamo cercando con questo progetto, stiamo cercando di completare quello che sono state le nostre esperienze per portarle qui a Crotone. E infatti nasce apposta questo tapas bar, come diceva Raffaele, noi siamo molto legati alla Spagna, quindi nasce appunto questo progetto per creare un punto di incontro per gli amici, aperitivo dopo cena e sentirci un po' più a casa ancora di più. Otro è comunque un posto accessibile per tutti ed è per tutte le età? Sì, nasce con l'idea proprio di essere accessibile a tutti, dai 18 anni ai 40, ai 50, un posto comunque per fare aperitivo, per viversi la serata in tranquillità, in musica, bere un buon drink, una buona birra spagnola e fare una nuova esperienza.